Essere un diffusore della cultura in una città che è una città capitale della cultura unitamente a Brescia oggi rappresenti uno strumento centrale per tutti noi. Go Beyond fa tappa a Bergamo. Go Beyond è il corso di alta formazione nato nel 2017 dall'incontro di quattro realtà promotrici, accomunate da una visione inclusiva e volta il cambiamento del progresso sociale e legate dal comune obiettivo di rafforzare la conoscenza facendo cultura e favorire l'elaborazione nel campo politico, sociale, civile e sindacale. Dall'edizione scorsa e questa in particolare c'è appunto una connessione che è data dall'agenda ONU 2030 e dal programma europeo per adeguarsi a questa, però anche mettiamo in luce tutte le incongruenze che ci sono rispetto poi alla sostenibilità anche per i lavoratori di posti di lavoro e di carattere sociale, di non impoverimento, di lotta alle disuguaglianze. La cultura è anche la cultura di non fare, non generale, una società produttiva che sia caratterizzata soltanto su incentivi, ma una società che non produca esporni, polli da batteria, ma che parli di premi e quindi di coinvolgere la parte attiva e fattiva di quello che è e la componente che determina quella cinghia di trasmissione produttiva all'interno dell'azienda. È stata innanzitutto occasione per conoscerci tra di noi, tra ragazzi e ragazze della UIL e è stato un motivo anche di confronto. Poi si stanno toccando e sono toccate anche tematiche molto importanti che sono obiettivamente oggetto di discussione odierna anche nei nostri tavoli, ma anche con gli amici, con i familiari, quindi argomenti di estrema attualità. La UIL è una delle poche sigle sindacali che dà la possibilità a noi giovani di affrontare il sindacato sin dalle prime battute dei nostri contratti lavorativi, quindi ringrazio soprattutto la sigla che ci dà la possibilità di esprimere i nostri pensieri, i nostri stati d'animo anche con i corsi formativi. E in questa prima giornata bergamasca i temi trattati hanno riguardato il sistema sanitario, proprio in una città che ha toccato con mano il problema durante la pandemia. Importante perché il luogo che abbiamo scelto è quello di Bergamo, dove ha vissuto i momenti più tragici della pandemia. È un momento di riflessione, di confronto con i ragazzi per far capire loro che cos'è il sistema sanitario nazionale, ma che cos'è il sistema sanitario lombardo, con tutte le sue difficoltà, criticità, che se non vengono risolte alimenta ancora di più le disuguaglianze presentanti nel paese. Go Beyond fino adesso, e manca ancora l'ultima tappa, è stata un'esperienza meravigliosa, un'esperienza in cui abbiamo avuto l'opportunità, oltre che di formarci, di capire e anche vedere certe realtà molto importanti, industriali, produttive, veramente molto importanti, che hanno fatto la storia non solo dell'industria di questo paese, ma anche del movimento operaio e sindacale. E oltretutto abbiamo avuto l'opportunità di costruire un bellissimo gruppo di giovani che speriamo possa essere la classe dirigente di domani. E infine, in epoca di transizione, il riuso come elemento fondamentale dell'economia del futuro. Il riuso diventa importante per cercare di costruire quella sostenibilità ambientale, per coniugare scelte di sostenibilità ambientale con quelle che sono anche scelte di sostenibilità sociale, creare quel clima virtuoso dove insieme si costruiscono nuove scelte di sviluppo o che non possono essere più rinviate. Mi ha dato la possibilità di conoscere tantissimi ragazzi con cui condividere tanto e sono grata principalmente per i rapporti che sono riuscita a creare. Anche per quanto riguarda la formazione, ritengo che sia un corso molto importante perché si toccano tematiche molto attuali e che spesso potrebbero essere sottovalutate.